Se il vino scomparisse dai prodotti umani, credo che nella salute e nell'intelletto del pianeta si creerebbe un vuoto, un'assenza, un difetto molto più terribile che tutti gli accessi e le deviazioni di cui il vino è accusato. Non è ragionevole pensare che chi non beve mai vino, ingenuo o abitudinario, sia imbecillo o ipocrita. Imbecillo, in vero, chi non conosce nell'umanità, nella natura, un artista che respinge ai mezzi tradizionali dell'arte, un operaio che bestemmia la macchina, ipocrita, ovvero goloso che si vergogna, il lantatore della sua sobrietà, che beve in segreto e che ha qualche vino nascosto. Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere ai propri simili. Giudicate voi. Alcuni anni fa, a una mostra di pittura, la folla degli imbecilli si commosse davanti a un quadro levigato, lustro, verniciato come un oggetto di industria. Era l'antitesi assoluta dell'arte. Stava alla cucina di Drollin come la follia all'imbecillità. I seguaci all'imitatore. In questa pittura microscopica si vedevano volare le mosche. Come tutti, ero attirato da questo mostruoso oggetto, ma mi vergognavo di questa singolare bellezza, perché era l'irresistibile attrazione per l'orrido. Alla fine mi accorse che a mia insaputa, ero attirato da una curiosità filosofica. L'immenso desiderio di sapere quale poteva essere il carattere morale dell'uomo che aveva partorito una tanto criminale stravaganza. Scommisi con me stesso, che doveva essere profondamente malvagio. Feci prendere informazioni e il mio istinto ebbe il piacere di vincere questa scommessa psicologica. Seppi che il mostro si alzava regolarmente all'alba, che aveva rovinato la sua domestica e che non beveva altro che latte. Ancora uno o due aneddoti e potremmo stabilire un dogma. Un giorno, sommerso a piede, vedo un capannello di persone. Riesco a sollevare gli occhi sopra le spalle dei curiosi ed ecco cosa vedo. Un uomo steso per terra sulla schiena, gli occhi spalancati e fissi al cielo. Un altro uomo in piedi davanti a lui, che gli parla solo con i gesti, mentre l'uomo a terra gli risponde solo con gli occhi, tutti e due animati da meraviglioso affetto. I gesti dell'uomo in piedi dicevano all'intelligenza di quello disteso. Vieni, vieni ancora. La felicità è qui a due passi. Vieni all'angolo della strada. Non abbiamo completamente perduto di vista la deriva del dolore. Non siamo ancora nel mare aperto del sogno. Coraggio, amico. Andiamo. Di alle tue gambe di soddisfare il tuo pensiero. Tutto ciò fra tentennamenti e dondolì armoniosi. L'altro era certo arrivato nel mare aperto. D'altronde navigava nel rigagnolo, perché il suo sorriso estatico rispondeva «Lascia in pace il tuo amico». La riva del dolore è sufficientemente scomparsa dietro le benefiche nebbie. Non ho più nulla da chiedere al cielo del sogno. Credo anche di aver inteso sfuggire dalla sua bocca una frase vaga o piuttosto un sospiro vagamente formulato in parole. Bisogna essere ragionevoli. Questo è il culmine del sublime. Ma nell'ubriachezza siete lì per sublime, come vedrete. L'amico sempre pieno di indulgenza si avvia da solo alla betola, poi torna con una corda in mano. Certo non poteva sopportare l'idea di navigare da solo e da solo inseguire la felicità. È per questo che veniva a prendere il suo amico in carrozza. La carrozza è la corda e la passa intorno alle reni. L'amico disteso sorride. Ha senz'altro capito questa materna intenzione. L'altro fa un nodo, poi si mette al passo come un cavallo docile e discreto e trasporta il suo amico fino all'incontro con la felicità. L'uomo trasportato, piuttosto trascinato, spazzando il selciato con la schiena, continua a sorridere di un sorriso ineffabile. La folla è stupefatta perché ciò che è troppo bello, ciò che oltrepassa le forze poetiche dell'uomo, crea più sorpresa che commozione. C'era un uomo, uno spagnolo, un chitarrista, che viaggiò a lungo con Paganini. Questo accadeva nel tempo anteriore alla grande gloria ufficiale di Paganini. Insieme vivevano la vita vagabonda degli zingari, dei musicisti ambulanti, della gente senza patria né famiglie. Tutti e due, violino e chitarra, davano concerti ovunque passassero. Così han girato per parecchio tempo in diverse contrade. Il mio spagnolo aveva tanto talento da poter dire come Orfeo «sono il signore della natura». Ovunque passasse, pizzicando le corde e facendole vibrare armoniosamente sotto il pollice, era sicuro ad essere seguito da una folla. Con un simile segreto non si muore mai di fame. Lo seguivano come Gesù Cristo, come rifiutare cibo e ospitalità all'uomo, al genio, allo stregone che ha fatto cantare alla vostra anima le aree più belle, le più segrete, più ignote, più misteriose. Mi hanno assicurato che quest'uomo otteneva facilmente suoni continui da uno strumento che non produce se non suoni successivi. Paganini teneva la borsa, era responsabile della cassa comune, cosa che non meraviglierà nessuno. La borsa viaggiava sulla persona dell'amministratore. A volte era in alto, a volte in basso. Oggi negli stivali, domani, tra le due cinture dell'abito. Quando il chitarrista, che era un gran bevitore, chiedeva come stesse la situazione finanziaria, Paganini era come quei vecchi che temono di restare senza. Lo spagnolo fingeva di crederci, e gli occhi fissi all'orizzonte della strada pizzicava e tormentava la sua inseparabile compagna. Paganini camminava dall'altro lato della strada. Era un accordo reciproco, fatto per non darsi fastidio. Così ciascuno studiava e lavorava, camminando. Poi, arrivati in un luogo che offriva qualche possibilità di guadagno, uno dei due suonava una delle proprie composizioni, e l'altro improvvisava accanto a lui una variazione, un accompagnamento, un sottofondo. Nessuno saprà mai ciò che è stato di gioia e di poesia in questa vita di trovatori. Si lasciarono, non so perché. Lo spagnolo viaggiò da solo. Una sera arriva in una piccola città del Giura, fa affiggere l'annuncio di un concerto in una sala comune. Il concerto è lui, nient'altro che una chitarra. Si era fatto conoscere pizzicando le corde in qualche caffè, e c'era qualche musicista in città che era stato colpito da questo strano talento. Alla fine vennero in molti. Il mio spagnolo aveva scovato in un angolo della città vicino al cimitero un altro spagnolo, un compaesano. Questo era una specie di imprenditore funebre, un marmista che fabbricava tombe. Come tutte le persone che fanno un mestiere funebre, beveva forte. Così la bottiglia e la patria comune li condussero lontano. Il musicista non abbandonò più il marmista. Il giorno stesso del concerto, giunto allora, erano insieme. Ma dove? Era ciò che occorreva sapere. Si perlustrarono tutte le bettole, tutti i caffè della città. Alla fine fu scovato col suo amico in un tugurio indescrivibile, completamente ubriaco e l'altro anche. Seguirono scene analoghe alla King e alla Friedrich. Infine consente ad andare a suonare, ma eccolo catturato da un'idea improvvisa. Tu suonerai con me, dice al suo amico. Questi rifiuta. Possedeva un violino, ma lo suonava come il più spaventoso dei menestrelli. Suonerai oppure non suono neanch'io. Non ci furono prediche o buone ragioni che tenessero. Bisogna cedere. Eccoli sul podio, davanti al fiorfiore della borghesia del luogo. Portate del vino, disse lo spagnolo. Il vecchino, che era conosciuto da tutti, ma certo non come musicista, era troppo ubriaco per vergognarsi. Portate il vino, non si ha più pazienza di stappare le bottiglie. I miei due mascalzoni ne ghigliottinano a colpi di coltello, come le persone maleducate. pensate che bell'effetto sulle province in Ghingheri. Le signore si allontanano e davanti a quei due ubriachi, a quei due mezzi matti, molta gente scappò disgustata. Ma la indovinarono quelli il cui pudore non spense la curiosità e chiebbero il coraggio di restare. Comincia, dice il chitarrista al marmista, a impossibile esprimere quale genere di suoni uscì dal violino ubriaco. Bacco in delirio che tagliava la pietra con una sega. Così suonò. Che cosa tentò di suonare? Poco importa. La prima aria che gli capitò a tiro. Tutto a un tratto, una melodia energica e suave, capricciosa e unica nello stesso tempo, avvolge, soffoca, spegne e dissimula lo stridulo baccano. La chitarra canta così alta che il violino non si sente più. Eppure è proprio l'aria, l'aria avvilazzata che il marmista aveva intonato. La chitarra si esprime con una sonolità dilatata, chiacchiera, canta, declama, con un brio straordinario e una sicurezza, una purezza di dizione inaudite. La chitarra improvvisava una variazione sul tema del violino alla cieca, si lasciava guidare da lui e vestiva con splendore e tenerezza materna la tenua nudità dei suoi suoni. Il lettore comprenderà che è un fatto indescrivibile, un testimone vero e serio, mi ha raccontato la cosa. Il pubblico alla fine era più ubriaco di lui. Lo spagnolo fu festeggiato, sequiato, salutato da un immenso entusiasmo, ma senza dubbio il carattere della gente gli dispiacque, perché fu l'unica volta che consentì a suonare.